buon batman day giovani e benvenuti o bentornati sul canale di comic society sempre qui dal vostro steve oggi per l'appunto si festeggia il batman day si festeggia il crociato incappucciato di gotham e panini come al solito per festeggiare questa giornata ha pubblicato diversi volumi perciò vi voglio parlare di questi volumi e raccontarvegli un pochino come al solito vi ricordo che il vostro supporto per questi video è fondamentale quindi tutte le interazioni like commenti condivisioni aiutano il video a essere sparso più possibile quindi mi raccomando dateci dentro in più se volete supportarmi anche acquistando i fumetti di cui vi parlo magari anche in questi video potete farlo su gicoshow.it trovate il link qui sotto in descrizione mettendo comic society in fase d'ordine avevamo già visto batman andare in giro per il mondo su batman il mondo questa volta quest'anno per questo batman day è il turno del joker con joker il mondo la formula è sempre la stessa quindi vediamo diversi team internazionali di tantissimi paesi diversi raccontare delle storie per l'appunto del joker in quel determinato paese in questo caso abbiamo america spagna germania italia brasile messico repubblica cieca turchia corea del sud argentina cameron e polonia allora io non sono mai stato un grande fan delle storie brevi però devo dire che nel caso di joker e batman il mondo le trovo operazioni molto interessanti le trovo il modo migliore di sfruttare le storie brevi perché innanzitutto vediamo artisti e sceneggiatori da tutto il mondo che difficilmente altrimenti troveremo in altre storie a parte ad esempio qui in giochi del mondo per la storia americana abbiamo jove jones e jason fabock che vabbè quindi li abbiamo già visti però per quanto riguarda tutti gli altri paesi difficile che arrivino storie o comunque fumetti di questi autori in più sono storie molto molto interessanti perché oltre a esplorare i personaggi quindi il batman e il joker ci raccontano qualcosa proprio di quel paese infatti raccontandovi un po le storie che ci sono qui dentro allora partiamo dall'america dove abbiamo una storia che riguarda una piccola cittadina classica americana e il joker che fa la sua comparsa per fare uno dei suoi giochetti un po macabri e poi abbiamo la spagna con david rubin autore che io amo e del quale abbiamo parlato già diverse volte che ci parla un po dello stato in cui versa madrid dello stato del controllo della polizia della criminalità che dilaga della gente che viene oppressa storia molto molto interessante che david rubin ci va sempre giù abbastanza peso per quanto riguarda la germania abbiamo una storia che riguarda uno scienziato che elabora una macchina per il controllo climatico ma soprattutto la cosa importante è che abbiamo questo per gli appassionati di metal batman che va al waken il grande concerto il grande festival metal che si fa in germania abbiamo poi in italia qui qui vado avanti con raccontarvi un altro volume che troviamo sempre per il batman day la storia italiana di bristi baciglieri e filosa la troviamo anche in volume separato cartonato di grande formato che è ambientata a bologna quindi non potevo non avere anche il volume di questa storia è andata a bologna durante gli anni di piombo e quindi in fondo alla fine degli anni 60 e ci racconta una bologna come proprio era a quei tempi una bologna in tumulto su tanti su diversi fronti su diversi era una bologna superattiva perché è piena di giovani piena di universitari piena di arte ma dall'altro lato era una bologna anche rivoluzionaria una bologna dove c'erano tantissime proteste appunto parte avanti dai giovani e dove la polizia insomma agiva in un determinato modo in questo ci buttiamo in mezzo anche il joker che in questo clima di protesta di rivoluzione trova se trova lo spazio per piantare il suo seme nel volume di strategia della tensione troviamo sia la storia colorata così come la troviamo sul volume giochi del mondo la storia in bianco e nero e in più diversi extra in fondo come la sceneggiatura alcune bozze preparatorie un'intervista è cauto il batarang interviste insomma un bel volumone costicchia perché sono 20 euro però insomma è andata a bologna giochera bologna è la mia città quindi mi piaceva e andando avanti c'è la il brasile che ci racconta una storia legata molto bello a questo che è legata a un manicomio realmente esistito in brasile che ha fatto tantissime tantissime vittime e loro si collega ad arkham il messico ci racconta di luce alibre e di criminalità legata alla luce alibre la repubblica ceca fa una sorta di contest per trovare il gioco della repubblica ceca e in crisi da questo espediente per analizzare il fatto che joker non sia una persona ma sia più che altro un'idea molto bella anche questa la turchia ci racconta a parte a livello di costumi molto tradizionali anche a livello di aspetto ricorda molto la la turchia ma ci racconta dei tesori dell'impero ottomano che sono stati depredati nel tempo dalle varie superpotenze che hanno depredato proprio i tesori storici di questi paesi la corea del sud ci racconta un'altra storia legata sempre alla polizia e anche qui torniamo al discorso di joker più come un virus sociale che una vera e propria persona tra l'altro bellissima tavola questa qua l'argentina con un'altra storia molto in bella che ci racconta delle bande criminali legate al tifoseria ultra quindi ci racconta di come ogni città abbia ogni squadra di calcio abbia le sue bande criminali legate che ha dei proprio dei traffici legate alle parti di calcio molto interessante poi il camerun che ci mostra una sua versione del one bad day del joker quindi del giorno cattivo del giorno brutto che porta una persona normale ad essere uno squilibrato come il joker e infine la polonia che ci racconta una storia sui giullari su come vengono sempre bistrattati i giullari come venivano in passato quando esistevano i giullari una storia legata proprio alla storia della polonia e a un quadro che realmente esiste che si trova in polonia riguardante proprio un giullare e quella che è stata la caduta storica della polonia insomma racconti interessanti ovviamente parliamo di racconti brevi a tutti gli effetti giocher il mondo è l'unico volume veramente celebrativo per questo batman day ma ci sono poi anche tanti altri bei fumetti io ve lo consiglio insieme a batman il mondo se riuscite ancora recuperarlo secondo me sono due raccolte veramente molto interessanti e ripeto si scoprono artisti nuovi storie legate a posti nuovi quindi ottimo modo per festeggiare batman è tutto il sottobosco di gotham passiamo ora quello che è il fumetto che mi è piaciuto di più in assoluto da questi pubblicati che è batman la città della follia di christian ward allora io ho amato christian ward già dal suo aquaman andromeda trovo il suo stile pittorico veramente molto molto bello e mi ricorda molto lo stile di dave mckin già vi mostro subito guardate delle tavole perché ne vale assolutamente la pena anche solo a livello visivo dave mckin che ha in realtà una specie di ruolo in questa storia perché questa è una storia che mescola arkham asylum di gran morrison e dave mckin mescola la corte dei gufi e mescola le atmosfere lovecraftiane i racconti di lovecraft christian ward ci porta in in una gotham che è stranamente più violenta del solito batman si accorge che c'è qualcosa nell'aria di cambiato tutto questo in seguito a un terremoto un terremoto che ha aperto una porta sotterranea che la corte dei gufi teneva a bada da diverse centinaia di anni è una porta che porta a una seconda gotham una gotham che è un riflesso della prima gotham ma un riflesso più oscuro una specie di incubo di quella che è la reale gotham ed è tutto quello che c'è sulla gotham di sopra esiste anche sulla gotham di sotto quindi se a di sopra c'è un batman di sotto c'è un batman il problema qual è che il batman di sotto è fuoriuscito ed è entrato nella gotham di sopra ma se la gotham di sotto è un incubo della gotham di sopra provate a immaginare come possa essere il batman di sotto quindi nascerà una alleanza momentanea fra la corte dei gufi e batman per andare nella gotham di sotto e sistemare questa faccenda mentre al di sopra il nuovo batman il batman di sotto cercherà un suo robin è una storia che innanzitutto analizza un po il rapporto fra batman e i vari robin e poi è un racconto proprio che ci porta nelle atmosfere lovecraftiane ma ambientato a gotham con batman e tutto il resto analizza e ci racconta anche del rapporto fra alfred e batman di come alfred inizialmente aspettasse sempre e bruce wayne svegli tutte le notti poi si è reso conto che per lui è impossibile insomma è molto bello anche come parla del rapporto fra alfred e batman e in tutto ciò si racconta anche qualcosa di alcuni antagonisti di batman raccontandocene delle versioni anche qui un po modificate da questa atmosfera lovecraftiana ma che in qualche modo riesce a raccontarci qualcosa di nuovo è un volume secondo me è veramente molto molto bello sia a livello narrativo quanto soprattutto a livello artistico come vi dicevo a livello di disegno abbiamo queste questi dipinti molto caustici questi dipinti un po deliranti un po caleidoscopici che ci stanno perfettamente con queste appunto atmosfere lovecraftiane molto coupe molto dark un po horror veramente veramente un gran bel volume questo recuperatevelo batman day o non batman day gran bel volume su batman da leggere cambiamo personaggio e andiamo su qualcosa di altrettanto cupo ma più realistico e più violento con l'origin story raccoltane il pinguino dolore e pregiudizio di greg arwitz e simon crudansky qui abbiamo a per l'appunto l'origin story del pinguino che ci racconta cosa ha dovuto subire il pinguino e cosa quindi lo ha portato ad essere il il criminale più terrificante più violento della malavita di gotham city a differenza delle origin story che abbiamo visto sulla storia che sta andando che sta venendo pubblicata in questo momento di tom king qui abbiamo proprio un origin story che parte dalla sua infanzia parte da quando è neonato e da quando appena uscito dalla pancia di sua madre già per colpa della sua malformazione facciale e non solo suo padre già lo odia da quando è appena nato lo ripudia da quando è appena nato e questo è solo l'inizio dei grandi problemi familiari dovrà affrontare da giovane la discriminazione e le prese in giro le continue risate di tutti fondamentalmente di tutti quelli che gli stanno incontro e di come lui debba in qualche modo passare una vita intera a nascondersi a difendersi a subire questo lo porta un giorno andando man mano avanti a scoprire che in realtà lui però è molto bravo a fare una cosa a far smettere la gente di ridere di lui in un modo sempre più violento ci mostra nel presente mentre ci racconta queste sue origini storie però un pinguino che si innamora di una persona cieca e che riesce in questo modo non vedendolo fisicamente in faccia a conoscere un pinguino diverso rispetto a quello che conoscono gli altri a conoscere il suo sa warfare il suo charm anche se il pinguino in questo non è completamente onesto con lei ma in questo modo riesce per la prima volta ad avere una relazione interpersonale con una relazione romantica con una persona in più ci racconta le differenze fra lui e batman di come batman entri in una stanza con la sua stazza con la sua possenza fisica e riesca ad attirare l'attenzione di tutti mentre lui a livello fisico non è niente basso tarchiatello però allo stesso tempo riesca anche lui a farsi rispettare a suo modo e ci mostra come nel presente sia veramente di una crudeltà pazzesca di come il minimo torto possa bastare per far rovinare completamente la vita a una persona e la cosa bella la cosa interessante bella mica per chi la subisce non tanto per noi da leggere sì è che non importa che lui alzi le mani lui gli basta solo dare degli ordini ai suoi scagnozzi e non tocca nemmeno quella persona ma gli distrugge tutta la vita che lui ha intorno veramente veramente molto tosto quindi vediamo questa storia che è un po un origin story un po una storia sul presente del pinguino e che ci racconta questa storia d'amore molto particolare con questa ragazza una storia che ho trovato anche a livello di disegno super interessante con questo stile guardate questa è la tavola per l'appunto che ci mostra il batman tra l'altro grossissimo una storia molto interessante a livello di disegno perché è una storia che rappresenta la crudezza di questa storia il suo essere un thriller fondamentalmente molto terra terra e di una certa violenza di una certa cupezza è veramente un gran bel volume anche questo e ho apprezzato molto il fatto che non si vada a incastrare con le origini che stiamo vedendo ora di quelle di tom king quindi tra questo e la minizia di tom king vediamo intanto il pinguino sta avendo un grande ritorno magari anche grazie alla serie che tra l'altro esce proprio in questi giorni è sempre riguardante il pinguino legato al pinguino del di the batman stiamo vedendo un bellissimo approfondimento sulla storia di questo villain che ho trovato sto trovando veramente interessante sia per questo volume che quello di tom king super consigliato anche questo gran bel volume dopo tutta questa crudeltà violenza e horror ci vuole qualcosa di un po più leggero un po più divertente e arriva il nostro soccorso batman wayne family adventure il cofanettino della prima stagione di questo webtoon tra l'altro nominato agli eisner che si racconta appunto delle storie riguardante la bat family sono storie quotidiane storie che ci vanno a raccontare i rapporti personali fra i tantissimi ormai componenti della bat family tutti i vari robin damian jason todd team drake abbiamo poi cassandra insomma ci sono tantissimi ormai personaggi barbara gordon che fanno parte della bat family ed è sì una roba molto leggera sono raccontori e brevi che in qualche modo formano un unico racconto quotidiano sono leggeri sono anche a livello di disegno molto da webtoon appunto il tutto è molto team ok ma non manca l'approfondimento sia sui personaggi cioè queste storielle ci raccontano essendo storielli di vita quotidiana ci vanno un po raccontare del carattere di questi personaggi per esempio molto vedere è molto bello vedere i tre robin che si confrontano fra di loro tre robin di tre diverse generazioni con tre diversi passati e che scherzano anche in qualche modo su tutto il loro passato editoriale e a proposito di passato editoriale sono storielle che si incastrano e vanno a toccare tanti punti della storia editoriale di batman e della bat family e che quindi ci raccontano tanti piccoli dettagliucci di che magari non sapete e che magari volete andare poi ad approfondire riguardanti i vari personaggi della bat family detto questo come dicevo è una lettura super leggera e divertente è per l'appunto un webtoon tra l'altro è per essere un webtoon l'ho trovato molto gradevole anche su carta mi è capitato altre volte di leggere webtoon che non sono fatti per essere stampati su carta ma per essere fruiti da digitale da telefono da computer e che a volte non non era un granché non erano un granché impraginati su carta mentre su questo qua devo dire non ho trovato grandi difficoltà continuerà nel senso che questi primi due volumi sono per l'appunto la prima stagione ripeto è un espediente cioè è una lettura diversa che ci mostra in qualche modo l'evoluzione che batman ha avuto negli anni perché sì siamo arrivati ad avere un batman sempre più cupo oscuro dark gotico che è fondamentalmente il motivo per il quale a me piace così tanto batman ma dall'altro lato tutto questo tutto il suo passato territoriale lo ha portato ad avere per l'appunto una famiglia ha portato batman soprattutto bruce ween a cambiare molto a livello caratteriale e quindi questa è anche lo specchio di una evoluzione che batman ha avuto oltre al fatto che batman ha avuto spesso il suo lato scanzonato come per esempio ricordiamo la serie degli anni 60 di adam west quindi è bello ogni tanto avere anche qualche storia che riporta quel lato più scanzonato per l'appunto di batman e soprattutto ripeto è bello vedere tutti questi personaggi insieme che interagiscono fra di loro in qualche avventura ma soprattutto vederli in un contesto quotidiano facendo quindi un piccolo recap i fumetti che panini è pubblicato per il batman day sono batman wayne family adventure cofanettino di due volumi il pinguino dolore e pregiudizio batman città della follia joker il mondo con separatamente il volume joker strategia della tensione secondo me ottimo batman day quello di quest'anno pubblicazioni veramente molto molto interessanti fatemi sapere voi nei commenti se le recupererete se le avete lette o che cosa leggerete oggi per festeggiare il batman day io come al solito vi ringrazio per essere rimasti qui con me fino in fondo al video e noi ci vediamo alla prossima ciao